Centinaia di persone nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile hanno percorso con le biciclette il centro storico di Napoli. Si è svolta infatti ieri una giornata ecologica dedicata alla bicicletta alla quale si sono aggiunte diverse iniziative come ad esempio una caccia al tesoro con decine di squadre sparpagliate soprattutto nei decumani alla ricerca dei più svariati oggetti da trovare e da fotografare un'esperienza di gioco itinerante alla scoperta di Napoli dei suoi luoghi storici. Contemporaneamente a cura di cicloverdi si è anche svolta con partenza al museo e arrivo a Bagnoli una ciclo passeggiata per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini all'utilizzo sicuro delle biciclette. In piazza municipio una folta delegazione dell'associazione si è incontrata davanti a Palazzo San Giacomo con il vice sindaco Sodano col quale si è discusso di tutte le iniziative che potranno favorire ancora di più l'uso delle due ruote in città.